Finora, e noi lavoreremo perché non accade, Napoli non corre, non sta correndo questo rischio. Siamo la città d'Italia che maggiormente cresce in termini turistici, ma è anche una città che si sta profondamente riscattando dalle sue tradizioni, dalla sua identità e dalla sua peculiarità. Quindi Napoli città internazionale, Napoli città turistica, ma Napoli, Napoli, cioè che non perde la sua identità, non come hanno fatto altre capitali con massificazioni che poi hanno prodotto un annullamento delle differenze, delle peculiarità e delle caratteristiche. Ecco perché non abbiamo bisogno del numero chiuso, perché la nostra identità è talmente forte che la stiamo facendo esplodere in tutta la sua potenzialità.